buonasera buonasera la presidenza del consiglio posso soltanto un saluto ad Alfredo Mantovano a cui mi lega un'amicizia come si dice eh risalente ad epoca non sospetta non solo perché siamo stati insieme parlamentari siamo stati insieme al governo nel duemila e uno ma eh abbiamo condiviso anche ce lo siamo perso eccolo una una esperienza anche in anni più giovanili di entrambi eh di condivisione proprio di quei valori che io oggi mi sono permesso di richiamare dovrebbero eh tornare a essere fondamento di un'Europa perché questa possa davvero tornare protagonista e consapevole della propria identità eh Alfredo Mantovano eh al di là della sua appartenenza politica è eh uomo di competenze professionali di grande equilibrio a cui tutti riconoscono un ruolo fondamentale per eh la stabilità dell'attuale governo e quindi siamo particolarmente grati che pur nella impossibilità di essere qui di persona oggi con noi ci abbia concesso questo collegamento e eh ci voglia dare il suo contributo al dibattito del governo grazie Alfredo la grazie a te Michele grazie anche l'invito e chiedo scusa per non essere intervenuto ma la mia condizione è molto prossima a quella di chisitora agli arresti domiciliari quindi devo rispettare le prescrizioni allora cominciamo subito la nostra la nostra chiacchierata eh il tema di questi due giorni è l'Europa allora chiedo subito al sottosegretario Mantovano che rappresenta un governo che ha smentito sotto molti punti di vista e sta smentendo molte profezie eh della vigilia preelettorali che davano pochi mesi di vita ma soprattutto immaginavano una convivenza impossibile con Bruxelles e altri paesi europei governati da coalizioni di stampo non conservatore questo governo invece cito una frase proprio di Mantovano non mette in discussione la partecipazione all'Europa ma vuole esserne protagonista in modo non supino e burocratico parlando a un incontro di qualche mese fa organizzato dalla mia rivista eh Tempi eh Mantovano aveva detto di non riconoscersi totalmente nell'idea di un'Europa che nasce dal manifesto di Ventotene allora gli chiedo quali sono i limiti di questa Europa e come l'esecutivo sta cercando se lo sta facendo di cambiare questo approccio dell'Europa ma tanto eh il primo aspetto che credo qualifichi eh questo governo nel suo porse sul piano non soltanto europeo ma anche internazionale è quello che ne viene colta una prospettiva di stabilità il che non è proprio un elemento marginale perché nei primi incontri internazionali ehm la presidente Meloni ehm collieva nell'interlocutore uno sguardo del tipo ma la prossima volta avrò occasione di rivederla tra sei mesi tra otto mesi ehm sarà sempre lei eh il primo ministro italiano o dovrò vedermela con qualche altro questa prospettiva di stabilità consente in tutti gli ambiti sia quello europeo sia quello internazionale di poter costruire qualcosa che guarda lontano e questo non è un elemento di poco conto sia in Europa sia su uno scenario più ampio il secondo elemento è che come veniva ricordato noi senza mettere in discussione l'europeismo però evitiamo di seguire l'ordine del giorno che in un'ottica molto dirigista dell'Unione Europea che non condividiamo ma non soltanto noi tanti Stati europei dovrebbe essere sempre calato dall'alto la circostanza anche questa non marginale che eh nei consigli non soltanto di settore quelli dei ministri dell'interno e della giustizia ma anche dei primi ministri l'immigrazione ormai sia una voce stabile di cui si discute sempre e comincia a discutersi anche con qualche risvolto concreto coi tempi europei intendiamoci che potrebbero essere certamente più più celeri e qualcosa che sottolinea il ruolo dell'Italia nel ricondurre l'attenzione su temi che toccano l'intera Unione ma in modo particolare la nostra nazione. Il terzo elemento che vorrei sottolineare di questa differente presenza in Europa è che l'Italia in Europa sta acquisendo il ruolo di interlocutore non voglio dire privilegiato ma di apripista nei confronti dei paesi africani in particolare quelli con i quali si può stabilire un rapporto. Certo nel Sahel ci sono stati otto colpi di Stato negli ultimi due anni e quindi non sempre l'interlocuzione è stabile e soprattutto è attivabile soprattutto all'indomani di un di un golpe. Però è significativo che tanti leader di nazioni africane vedano nel governo e in chi lo guida in particolare in Giorgio Amelloni un partner col quale stabilire non soltanto relazioni stabili ma anche relazioni che possono coinvolgere altri partner europei e internazionali. In quest'ottica l'avvio del percorso del cosiddetto Piano Mattei per l'Africa avvenuto nel luglio di quest'anno, il 23 luglio qui a Roma alla Farnesina, ha avuto proprio il senso di mettere in un collegamento un po' più coordinato, un po' più concreto le istituzioni europee attraverso l'Italia verso quegli stati africani con i quali si possono immaginare piani di sviluppo e quindi regolamentazione serie dell'immigrazione. Ecco, credo che tutto questo abbia concorso ad un diverso posizionamento dell'Italia in Europa e a fugare tutti i dubbi che c'erano alla vigilia anche grazie al concorso attivo di una parte dei medi italiani. Grazie. Poi sul tema dei migranti voglio tornare tra poco. Prima però le chiedo, lei ha parlato del dell'Italia nel consesso internazionale. Anche in questo caso, prima, un anno fa, prima che il governo iniziasse a lavorare, si diceva l'Italia verrà messa ai margini del consesso internazionale. Invece proprio in questi giorni assistiamo a un paradosso. Dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, la risposta militare di Israele, di cui si parlava proprio, di cui si sta parlando in questo, in questo panel, l'unità dell'Occidente nella politica estera non passa più dalla sinistra, divisa, ambigua spesso anche su quello che succede a Gaza, ma, ma dai governi e dai partiti di, di, di centrodestra. Sinistra è un po' in ordine sparso, la stessa Europa va in ordine sparso, non riesce, bisticcia sulla posizione da tenere, mentre invece dipinti a lungo come cattivi e disallineati, i cosiddetti sovranisti sono diventati gli alleati più affidabili per il democratico Biden in politica estera, che tra l'altro in casa sua si trova con una sinistra estrema che ormai ha assunto toni anche antisemiti, non solo antisionisti. Ci racconta, ci tratteggia il lavoro che il governo sta facendo sui dossier delicati della guerra in Israele in particolare e anche quella in Ucraina? Io vorrei descrivere una giornata di lavoro del Presidente del Consiglio, il 21 ottobre, nella prima parte della giornata lei è stata ospite al Cairo del vertice delle Nazioni Arabe che è stato convocato immediatamente dopo l'attacco di Hamas del 7 di ottobre, oltrepassando i confini della striscia di Gaza. Al termine di questo incontro, al quale lei era l'unica leader di uno stato del G7 ad aver incontrato nell'immediatezza dell'espulsione della crisi i leader dei paesi arabi, Giorgia Meloni poi si è recata a Tel Aviv e ha incontrato il premier Netanau. Questo che cosa significa? Significa che nella assoluta solidarietà con Israele, nei cui confronti non devo ripetere ciò che il Governo ha detto in ripetute occasioni dentro e fuori il Parlamento, dentro e fuori i contesti istituzionali, però c'è anche lo sforzo per cogliere la portata di questa guerra terribile e devastante che non è soltanto negli obiettivi di Hamas e di chi lo sostiene, Israele, ma sono i paesi arabi che con Israele avevano iniziato una complicata strada di accordi e di riappacificazione e in genere è una sorta di partita per l'egemonia jihadista nel Medio Oriente con le ricadute che tutto questo può avere nel resto del mondo dove ci sono presenze jihadiste. Allora l'Italia questo ruolo lo sta svolgendo in prima battuta interloquendo direttamente con gli altri paesi del G7, sentendo costantemente i leader delle altre nazioni, ma svolgendo anche un'attività concreta e prossima a partire una nave contenente medici e personale ospedaliero che sarà collocata davanti a Gaza e sono in corso delle trattative per aprire un ospedale o immediatamente prima o subito dopo i confini di Gaza. Quindi ci sono anche delle azioni concrete che hanno un senso di per sé e un senso simbolico, un po' come quello che continuiamo a fare in Ucraina che sembra essere molto ridimensionata, non voglio dire scomparsa, ma nell'attenzione mediatica dopo l'avvio della guerra in Medio Oriente e verso l'Ucraina c'è sempre stato questo doppio binario di fedeltà all'alleanza militare e di aiuto alla popolazione civile. Nei mesi passati abbiamo fornito generatori per la corrente elettrica mettendo insieme più risorse interne alla nostra nazione. La ricostruzione di Odessa, in particolare della sua cattedrale, avverrà grazie al lavoro di architetti italiani che in particolare tra Milano e Roma, il Maxi, la triennale guidata dall'architetto Boeri, il Ministro della Cultura, il Ministro degli Esteri garantiranno i progetti per rimettere in piedi la cattedrale distrutta e altri 50 edifici civili di Odessa. Ecco, questo è quello che l'Italia, il modo con cui l'Italia si offre sullo scenario internazionale in queste aree di crisi, dando ovviamente anche il suo contributo di idee, di proposte alla pacificazione per quanto complicata e veramente intricata possa parire. Grazie, abbiamo ancora pochi minuti e volevo fare ancora due domande a Mantovano. La prima telegrafica, anche perché il tema dei migranti lo ha già toccato. Partirei da una dichiarazione del premier albanese Edirama, che commentando l'accordo appena firmato dal governo italiano sui migranti, ha parlato di una Giorgia Meloni frustrata da Bruxelles. E così il governo si sente frustrato da Bruxelles sulla questione dei migranti? In termini di frustrato forse non è il più adatto a qualificare questo protocollo, che peraltro si inserisce in un accordo di collaborazione internazionale sottoscritto già da tempo tra Italia e Albania e riguarda l'aspetto specifico dei migranti. Diciamo che, volgiamolo in positivo, in positivo come lo stesso Presidente Rama ha detto, questa è una modalità di collaborazione tra paesi che aspirano entrare nell'Unione Europea e altri paesi membri della stessa Unione, in qualche modo anticipando quella solidarietà che adesso, per paradosso, si trova tra chi sta dentro e chi sta fuori e che forse può costituire un esempio anche per chi sta dentro, sia da una parte che dall'altra. E questa solidarietà è assolutamente in linea con ciò che nel corso degli anni, e mi sorprendono le critiche su questo fronte, si è detto, per esempio a proposito dell'opportunità di aprire degli hotspot nei paesi di transito, Tunisia e Libia, dove poter esaminare le domande d'asilo. È una sorta di alleggerimento, di contributo dell'Albania all'alleggerimento dell'impatto migratorio dell'Italia, che è inevitabile trovandosi proiettata nel Mediterraneo, ed è fatto nell'assoluto rispetto alle convenzioni internazionali, con disposizioni concordate che garantiranno la giurisdizione italiana all'interno del centro, al momento dello sbarco, con tutti gli strumenti di impugnativa che esistono sul territorio nazionale. Quindi non c'è niente di stravolgente rispetto alle procedure già in essere, se non una dimostrazione di vicinanza da parte dell'Albania e una possibilità di essere meno congestionati nell'accoglienza e nella trattazione delle domande di asilo rispetto a quello che è accaduto fino a questo momento. Grazie. Il governo Meloni si sta caratterizzando anche per una serie di battaglie su, si parla prima di valori, diciamo, battaglie anche poco mainstream che sta portando avanti. Penso a quella sulla natalità, quella contro il cosiddetto utero in affitto, quella per la vita, il CDM, c'è stato un CDM straordinario pochi giorni fa in cui il governo ha concesso la cittadinanza italiana a Indy Gregory, una bambina inglese gravemente ammalata a cui secondo i giudici inglesi bisognava togliere i supporti vitali. Proprio in queste ore si sta decidendo della sua sorte. Le chiedo, vale la pena di portare avanti certe battaglie di questo tipo o sono battaglie contro i mulini a vento di un'Europa che ormai su questi temi ha un'agenda molto distante? Le rivolgo io una domanda ma poi le rispondo. Se non vale la pena fare queste battaglie, che cosa vale la pena fare? Perché cosa vale la pena impegnarsi? Ma l'abbiamo visto tutti il video e chi non l'ha visto lo può recuperare facilmente via internet della piccola Indy mentre stringe con la sua manina il dito della persona che ha davanti. Che significa che reagisce viva e vitale, non è un tronco. Certo è una grave disabile, ha una malattia molto seria che però merita di essere curata, non di essere stroncata staccando le macchine. Non so chi ha parlato di accanimento terapeutico, quali dati avesse per fare una valutazione di questo tipo. Certamente la nostra valutazione è che ogni vita umana, soprattutto quella che ha maggiori condizioni di disagio, deve essere posta al centro dell'attenzione di tutti. E questo per noi ha delle ricadute concrete, lo ha avuto nella prima legge di bilancio per quello che ci è stata consentita, con qualche margine più ampio lo ha nel disegno di legge di bilancio che adesso è all'esterno del Parlamento, ma lo ha anche nella considerazione della singola persona, perché nella nostra civiltà, e quindi non è un discorso di retroguardia, è un discorso di prospettiva, c'è che la civiltà ha al centro la persona. C'è un'immagine della nostra tradizione pittorica che è stata ripresa da vari artisti in varie epoche storiche ed è quella della fuga di Enea da Troia in fiamme. Enea, come tutti ricordiamo, ha sulle spalle il padre Anchise, che significa che gli anziani non sono roba da lasciare dietro di sé, come vorrebbe certa ideologia oggi abbastanza egemone dal punto di vista culturale, ma con l'altra mano, la mano rimasta libera, ha a fianco a sé il figlio Ascanio. E molti sottolineano il fatto che in questa immagine la figura più importante sia quella del figlio, perché è ciò che nel rispetto della tradizione, il padre anziano sulle spalle, consente di guardare al futuro. E il futuro, in quel caso, è la costruzione della civiltà che poi ha informato di sé non soltanto la nostra nazione, ma l'intero territorio europeo e continua a esercitare degli influssi anche nei paesi che sono nati dalla presenza di europei. Ecco, questa è la nostra dimensione e il nostro orizzonte ideale. Poi qualificatelo come meglio ritenete, ma si fonda esattamente su un bambino che guarda al futuro, che dà l'idea del futuro. La natalità è mettere al mondo un bambino e guardare con speranza il futuro. Per questo la natalità è al centro del nostro programma. Grazie ad Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Grazie a voi. A cui auguriamo e a cui auguriamo buon lavoro. Grazie.